Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video, io sono Niki di Niki La Gamers e questo è Sword Art Online Lost Song. In questa puntata vedremo la sagra con altri personaggi e tante altre cose nuove. Buona visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Ciao S-s-s-so... Ah... Ma go ni mo' i show? N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n? Hahahaha... Govien govien... ...demu... Ma... ...imma sarah ho mette mo' o so' in da kara... N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n... Be... ...s-o-da-y-n... ...gomen... Guarda, a schieno vano il pranzo. E un pollo? Sì, con le braccia di sotto? Non ti senti capolenta. Come potete a venire in questo palco? Tu non ho certo l'ho detto. L'abbassu a venire in questo palco? Cattolino come potete anche a venire in questa volta? Ah, sì, con l'ho detto. Tutti lainmente, ma dentro della SAO? Oh, no. Sao è sempre benanze in questo palco? Ah, sono certi per me intreverso. Oh, sei capace che in un po' di posto! No, inizio! Non bisogna farei cosi che fai. Non riesco, ecco. Non riesco a fare la la scuola. Un... Devi fare la scuola di stagio. Non riesco a fare i passi in la stanza. No, non riesco a fare la scuola di stagio. Ah, veramente? Non riesco a fare il posto da scuola. Non riesco a fare la scuola di stagio. Un... Non riesco a fare la scuola di stagio? Sì, scusate Sì, scusate Sì, ecco Sì, ecco Sì, ecco Sì, ecco è questo è il nostro mondo Sì, ecco Hai, ecco Sì, ecco Sì Sì Sì. Noi Noi Voi Noi Noi Ah, ma... ...o non lo so... ...questa finora di Natale... ...disi da chi lo soggine... ...disi da questo tipo di Natale... ...disi di una volta che si è venuto con le soggine... ...disi da un'altra cosa... ...Yui... Ah... Papa, come... ...disi da una parte? ...disi da un'altra cosa? Quindi sì, buono... Ah, ok, bene. Siamo sempre in attenzione... Grazie Papa! Ok, allora ora ora andiamo! Ah, un po' di chiedere! Vi a fare una chiedere... Ok, ora andiamo! Ok, ora andiamo! E quindi mi sembrava molto piacere... ...e che... ...dia ho fatto... Oh... ...dia ho detto a questo. Grazie a tutti. C'è cosa che cevo è fatto Non c'è un'altra cosa? Non è tutto Pagno è sempre 300 euro Papa... C'è vera Sì, perché non mi piace? Non mi piace, ma non mi piace. Non mi piace. È un po' di spettacare. E se si tratta di spettacare, poi si tratta di un po' di più. Non mi piace. Se poter fare, poter 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 poter. Ma prima cosa... ...dia capire. Ah, così... ...dia che si tratta di spettacare. Ah, è vero, Papa! Un po' di spettacare. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace e condividete i nostri video che a noi fa sempre piacere se non siete iscritti iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao e grazie.